eccoci buongiorno dopo la pubblicità comincia al meteo come sempre quest'oggi troviamo dopo averla un po attesa aver seguito un po questi avanzamenti troviamo questa perturbazione che sta già interessando le regioni settentrionali e parte di quelle di quelle centrali vedete che non vi faccio vedere la foto di ieri o dell'altro ieri in cui non si vedeva questa perturbazione c'erano un po di nuvole che vagamente messe insieme potevano rappresentare una struttura vale a dire una nuvolosità organizzata come si dice non casuale ma messa bene in fila e poi col passare delle ore queste nuvole sono entrate sul mediterraneo stanno entrando sul mediterraneo dove fino a 48 ore fa 30 c'era alta pressione adesso la pressione è scesa e quindi la bassa pressione consente un maggiore sviluppo di queste nuvole stabiliamo subito siccome come al solito sono stati così idee diciamo così notizie drammatiche sulle temperature nevicherà sì nevica è chiaro che nevica nevica sulle alpi nevica adesso questa mattina intorno ai 1800 metri ma tenete conto che insomma a 3000 metri nevica anche agosto quindi non è che poi sia una cosa è vero che siamo a fine a fine aprile però insomma a quelle quote lì potrebbe anche scendere a 1600 probabilmente quindi c'è un po più di freddo sicuramente nei prossimi giorni soprattutto al nord ma direi non un tonfo come quello della della settimana scorsa dal quale c'eravamo già già ripresi quindi col maltempo insomma aspettatevi qualche grado in meno allora questa la situazione la strada che prenderà questa perturbazione quella di sud est quindi attraverserà un po tutte un po tutte le regioni con con vicende con situazioni diverse vediamo intanto la previsione per la giornata di oggi quella che avete già visto ieri le precipitazioni localmente anche intense prima sulla parte centrale del nord e poi in serata a spostarsi verso est anche qualche schiarita sul settore più occidentale a fine giornata proprio perché il tutto tende a spostarsi un poco e almeno all'altezza di Marche Toscana come minimo se non Umbria qualche pioggia la nuvolosità sicuramente qualche pioggia scende anche verso le regioni centrali sulle altre zone aumenta un po la nuvolosità ma precipitazioni ancora niente la giornata di domani l'avevamo visto anche questa mattina ha diciamo nelle previsioni poi vedremo in realtà che cosa succede una fase un po strana vale a dire vedete migliora sulle zone di nord ovest ancora non su quelle centrali e orientali del nord e poi questa linea che rappresenta la perturbazione in qualche modo che attraversa le regioni attraversa l'Adriatico le regioni centrali e raggiunge la Sardegna sulla Sardegna c'è anche una piccola componente meridionale che arriva dal nord Africa ma insomma qualche pioggia c'è la cosa strana è che nella prima parte della giornata questi fenomeni sembrano già leggermente attenuati mentre nella seconda parte della giornata sembra che si rinforzino quindi non prendete subito per passato e quindi questo maltempo se vedete migliorare un poco domattina perché nel pomeriggio potrebbe esserci un maltempo un pochino più un pochino più marcato e poi la giornata di venerdì con un piccolo avanzamento di queste piogge verso sud a questo punto migliora in maniera più decisa sulle zone di nord ovest non ancora su quelle di nord est già migliora su Toscana, Umbria, Marche vedete che tende a scendere verso sud qualche pioggia però da venerdì in poi questa perturbazione di cui ancora si vede una specie di traccia nella forma vedete questo arco comincia a perdere consistenza quindi probabilmente a fine della giornata di venerdì arriverà al sud ma con scarsi fenomeni quindi tutto si esaurisce in maniera relativamente rapida. I venti previsti per oggi sono ancora in prevalenza meridionali e questo spiega anche perché anche diciamo dove il cielo magari è più coperto le temperature ancora non scendono molto venti moderati localmente forti medio adriatico sul tirreno vedete meridionali con le tre barrette qui i mari sono come minimo molto mossi se no l'un per l'altro sono fra mossi e molto mossi le temperature massime previste per oggi sono ancora appunto relativamente elevate anche al nord poi qui certo dipende dove comincia a piovere a che ora comincia a piovere potrebbero ovviamente appena il maltempo si fa sentire non raggiungere facilmente i venti gradi e non superarli abbondantemente come è stato ieri sulle regioni del centro sud i colori vanno un po più verso il rosso specialmente in sardegna quindi valori ancora abbastanza elevati le tendenze questo è importante delle minime pressoché stazionari al nord ancora in leggero aumento al centro sud effetto dei venti mentre per le massime domani la tendenza è a scendere sulle regioni centrali vedete vedete c'è questa specie di linea anche qui che ricalca un po' la posizione di questa perturbazione dove passa la perturbazione le temperature scendono al nord domani già forse in leggerissimo aumento le due foto di oggi legate da un filo sottile il filo di della delle scie di condensiazione del degli aerei questa ce l'ha mandata walter da latina e cioè il fatto di vedere delle cose delle nuvole qui sembra una mano che sta afferrando questa scia o sembra quasi non so una lancia una freccia o qualche cosa l'altra un pochino più tecnica per dire matematica la manda stefania da da cervinia e qui lei vede a parte questa nuvola che è una di quelle dovrebbe essere una di quelle famose a ferro di cavallo di cui abbiamo parlato spesso di cui insomma trovate molte informazioni su internet lei vede questa di questa scia come un asse cartesiano con una parabola diciamo non più come dire coniglietti e pecorelle però anzi abbiamo un coniglietto in dire in serbo però una cosa un pochino più un pochino più matematica lo scenario non non ve lo perdete e quello di cervinia niente male come minimo se volete noi ci vediamo più tardi coffee break poi ancora alle 13 all'area che tira adesso alessandra sardoni il dibattito di omnibus